Buongiorno a tutti amici, oggi pesce d'aprile ed eccolo qua il nostro pesce d'aprile, una bella palamita, un missile terra-aria, non aveva proprio voglia di fare questo fino, attenzione al gig che ci arriva in faccia, guardate che bestia. Fantastico, ovviamente, sulla nostra Skill Jam da Schorginning, ecco perché adoro la primavera, attenzione, attenzione, questo è un momento, giugolo, casting jig, verde tempesta. A presto amici!